Domenica 4 marzo gli italiani saranno chiamati alle urne per le elezioni politiche ed eleggere quindi il nuovo Parlamento. Per i neo-maggiorenni sarà una prima importante occasione per far valere un proprio diritto. Ma come vivono questo appuntamento i neo-elettori? Con emozione o disinteresse, sono elettori informati e come si sono preparati? Denis, neo-diciottenne, quando hai festeggiato il compleanno? Ho festeggiato il compleanno il 20 gennaio, quindi proprio neo-neo-neo, da pochissimo. Senti, quindi il 4 marzo, prima volta al voto, la cosa ti emoziona? Sei contento? La cosa mi emoziona perché la maggiore età significa diventare un cittadino vero, quindi non si acquisiscono solo i diritti di acquistare sigarette come magari pensano molti ragazzi, ma si acquisisce il diritto al voto, un passo fondamentale, cioè diventiamo noi protagonisti della nostra vita e anche della vita delle altre persone perché possiamo influenzare l'opinione pubblica, possiamo votare, scegliere il nostro candidato. Io ritengo che in quanto cittadini e quindi cittadini maggiorenni e quindi cittadini responsabili, noi abbiamo il dovere di andare a votare, abbiamo il dovere di esprimere la nostra opinione, che sia un diritto che un dovere, poiché dobbiamo contribuire anche appunto con la nostra opinione, con le nostre idee a cambiare questo paese. Penso che sia sbagliato astenersi o annullare la scheda pensando di protestare perché tutti i politici sono uguali, tutti i partiti politici hanno le stesse idee perché non è vero e perché noi dobbiamo, è molto importante esprimere le nostre idee e contribuire appunto al miglioramento e al cambiamento di questo paese. Quando hai compiuto i 18 anni? Il 21 gennaio. Pochissimo? Sì. Il 4 marzo andrai ai seggi, per la prima volta voterai, sei emozionata, ti interessa? Non penso che ci andrò perché non mi interessa molto come cosa. E perché non ti interessa? Perché sei una disillusa della politica? Perché non appoggio ciò che dicono quelle persone, perciò finché non ci sarà qualcuno che mi convince non preferisco astenermi. Prima volta al voto, quindi il 4 marzo? Sì, è la mia prima volta, sono contento e secondo me è importante che i miei 18 anni vadano a votare perché noi in prima persona dobbiamo impegnarci per una cittadinanza attiva, quindi per cercare di migliorare il nostro paese secondo i nostri ideali. Per me è molto importante perché finalmente posso esprimere quella che è la mia preferenza politica e che per l'appunto da tanti anni maturo e tuttora continuo a maturare, visto che nascono nuovi partiti e nuove idee comunque arrivano sempre. Quando hai compiuto i 18 anni? Un mesetto fa. Prima volta al voto il 4 marzo? Sì, esatto. Questa cosa ti emoziona, ti interessa, non ti interessa più di tanto, non ti emoziona per niente? No, un po' mi emoziona perché comunque è un passo importante, però diciamo che di politica non ho mai seguito quasi nulla, quindi adesso devo un attimo informarmi. Quindi hai questi ultimi giorni per informarti? Sì, esatto. Utilizzo mio padre che è uno che ne sa molto, cioè la segue molto e chiedo un po' di informazioni a lui. Ma senti, ma tra coetani o a scuola non ne avete parlato? No, a scuola no, non ne ho mai parlato. Tra coetani magari qualche accenno. Ti sei preparato seguendo programmi televisivi, hai approfondito su Facebook, ti sei confrontato con amici, con parenti, a scuola ne avete parlato? Come si prepara ad andare a votare un neo 18 anni? Allora, ti dirò, in realtà la preparazione è molto personale ed è la cosa che anche consiglio a tutti quanti. Infatti meno si è influenzati da parenti, amici, comunque anche a scuola, più chiaramente c'è libertà nella scelta. In generale non ho seguito molto i programmi televisivi, anche perché poi si sfocia in dibattiti, ci si attacca molto alle parole dette e non si conclude nulla alla fine. Quello che ho fatto io è stato appunto guardare i vari programmi politici appunto della campagna elettorale e alla fine ho preso la mia decisione su chi rispecchiava di più le mie idee e quello che farei io al loro posto. Ho seguito molto i telegiornali e ogni tanto se mi capitava un programma con dibattito lo guardavo. Sono andato, sono stato anche su alcuni social network come per esempio Facebook a seguire alcune pagine di politici che mi interessavano e inoltre ho trovato alcuni interessanti canali di YouTube che cercano di fare delle analisi per esempio su programmi di alcuni partiti. Pochino di dibattiti al telegiornale, però le informazioni dal giornale o comunque sui social network non le leggo, non le cerco neanche. Ti sei informato quindi, insomma ti sei preparato a questa prima volta dentro al seggio elettorale? Prima di arrivare insomma al seggio elettorale? Sì, sinceramente sono abbastanza preparato, oltretutto anche tramite amici, poi in famiglia si discute spesso di attualità per cui anche di politica. Sinceramente devo ancora ritirare la mia scheda elettorale quindi dovrò provvedere al più presto, però sicuramente andrò al voto. Ho iniziato ad interessarmi, ho iniziato ad interessarmi anche attraverso internet, ovviamente su più fonti, confrontando varie idee, varie posizioni e ho cercato di, nella maniera più oggettiva possibile, di creare una mia opinione, una mia visione dei fatti, poi anche discutendo un eco in compagni è saltato fuori appunto un interesse comunque per quel che è il panorama politico moderno. Non andare a votare è un'occasione persa? Assolutamente sì.